In grosso, si ricomincia, nuova stagione, buon campionato, si comincia subito con l'Avellino ed è uno scontro, un classico big match. Sì, direi anche finalmente, sono stati dei bei mesi con una squadra completamente nuova, quindi finalmente si inizia. C'è stato anche un momento, primi giorni di mercato, che l'Avellino ti aveva cercato, quindi anche per te una partita un po' particolare o ti interessa poco? Ma, come ho sempre detto, sia il direttore che i miei compagni, la mia volontà è stata sempre quella di rimanere, quindi mi ha fatto senza dubbio piacere l'interesse dell'Avellino, però la mia idea è sempre stata quella di rimanere. Soprattutto nel tridente offensivo l'Avellino ha mantenuto la squadra dello scorso anno, perché per il resto c'è stata una grande rivoluzione, mi viene da pensare a Canutea, Di Gaudio, giocatori importanti. Sì, senza dubbio è una squadra forte, anche loro hanno fatto un sacco di innesti, però vediamo, è la prima di campionato, vedremo il da farsi. Chiedo un'ultima cosa Gianmarco, la difesa dello scorso anno numericamente aveva sofferto molto, con Colombo in precampionato invece è sembrato il reparto più concreto. Che cosa è cambiato tra il Pescara dell'anno scorso e questa nuova concezione? Parlare degli anni precedenti a me non è che piace tanto, però diciamo che stiamo lavorando bene, fondamentalmente non mi piace tanto parlare degli anni precedenti, stiamo lavorando bene, vedremo durante il campionato come andrà, però per il momento abbiamo trovato un bel po' di certezze. Grazie.